Dopo due anni di pandemia si è ripartito anche sulla marmolada con lo sci, che stagione è stata? Un po' di numeri anche magari? È stata una stagione che rispetto alle previsioni chiaramente ci ha dato grandi soddisfazioni, è stato bello poter ripartire, poter farlo in una situazione più tranquilla di quella che è stata la tensione dell'anno scorso, chiaramente non è stata una stagione normale, non possiamo dire chiaramente questo, però i numeri ci hanno dato ragione, il meteo è stato anche favorevole, abbiamo raggiunto i numeri del 2016-17 in termini di passaggi, quindi possiamo essere più che soddisfatti. È mancata un po' chiaramente alcune nazionalità dell'Europa anche, ma soprattutto gli stranieri di lunga distanza, comunque abbiamo visto che l'interesse e la voglia della montagna di sciare c'è e siamo soddisfatti e comunque fiduciosi per il futuro di una ripartenza forte. La marmolada è ancora una meta ambita dal punto di vista sciistico? È assolutamente un'attrazione, è sempre comunque la regina delle Dolomiti che sia l'estate che sia l'inverno per lo sci, quindi comunque anche da tutte le valli del Sella e anche dalle regioni limitrofe è un obiettivo, durante la settimana di vacanza bisogna almeno una volta essere stati in marmolada. Ecco, adesso guardiamo alla prossima stagione invernale, marmolada, qualche novità, avete già qualche progetto? Sì, abbiamo progetti molto amiziosi soprattutto sui collegamenti, il rafforzamento di quello che è il collegamento tra Malga Ciappela e Araba, quindi il cuore del Sella Ronda. Abbiamo in progetto un primo impianto che dovrebbe entrare in servizio nel 2023, ma iniziare già i lavori durante quest'estate per poter collegare in maniera veloce la partenza qui della funivia di Marmolada, di Malga Ciappela, a quello che è il compressore di Portavescovo e quindi poi tutta la zona del Sella Ronda, su Araba e sulle altre valli del Sella. Ecco, avete anche idea di qualche promozione particolare? I prezzi saranno gli stessi della passata stagione o visto anche l'aumento dell'energia elettrica, di alcuni costi, ci sarà per caso un aumento dei prezzi? Le previsioni, come detto, sono abbastanza difficili da fare. Al giorno d'oggi sappiamo che i prezzi avranno degli aumenti significativi per un discorso soprattutto energetico. Chiaramente le aziende nostre, del settore impianti a fune, hanno sofferto molto di questi costi. I prezzi non sono ancora stati definiti e probabilmente avremo bisogno di ancora un po' di tempo per capire come inserirli in maniera corretta rispetto alle previsioni che ci saranno. Comunque sul discorso della prossima stagione siamo pronti, siamo dinamici, siamo con le orecchie sul mercato per capire cosa succede e inserirci in maniera corretta anche nel discorso dei prezzi.